Non avevo capito, avevo capito Idia, Tiglia, siccome c'è un avvocato che ti senti più a me, mi dico che è un buon arritmo, mi dico che cosa vuoi parlare di quella pratica? No, sono l'avvocato Tiglia, e dimmi che cosa le posso essere utile? Ha detto, vorrei un appuntamento con lui per prima di mezzogiorno, mi chiedeva alle 10 per fare un appuntamento per me, mamma, io vorrei che non avevo un mese, dopo un mese, dice a mezzogiorno voglio un appuntamento con lui perché volevo parlarle di alcune situazioni per quanto riguarda Martina Calcio, ho capito l'avvocato Tiglia che è lì, però le spiego, Per tutta la giornata, fino a stasera sono impegnato, sono impegnato, di tutte le situazioni del Martina Calcio già ho la testa quando non parlò, se lei vuole l'appuntamento per raccontarmi le cose che io sto sentendo, Lei è Tiglia, lei è Tiglia del Martina di Roma, sì sono io del Martina di Roma, se dobbiamo parlare che lei mi deve dire di cervellire di lippolis di questi, quest'altro mi piace, non ne voglio sentire, Se dopo lei mi chiama che mi vuole dare un aiuto economico al Martina Franca, ho detto io sono a sua completa disposizione, se lei dopo vuole il Martina Franca, il Martina Franca è di cervellire e di lippolis, mi fa una proposta a me, Io posso fare da tramite, gli posso dire che se questa proposta che lei mi fa è una proposta seria, io la dico all'Ippolis, dico ai martinesi accettare questa proposta, qua servono soldi per salvare il Martino sul campo e fuori dal campo, A questo punto, ieri sera esco da agosto, oggi pomeriggio, gli ho detto alla squadra, quando ho parlato con il Presidente del Ministero, ho detto io dei soldi che voi avete da avere, Per me, io non posso prendere nessun impegno con voi, perché quando io prendo un impegno, i miei impegni vanno mantenuti, ho detto avete preso un pacco, avete preso un pacco, avete preso un bidone, Perché oggi, perché oggi quando io ero nello spogliatoio, ero da solo, non c'era né l'Ippolis e né nessuno, c'ero io, gli ho detto ragazzi, io ho solo un impegno economico in questo momento con il Ministero, Dopodiché non ho nessun impegno economico con voi, voi avete un contratto con la S Martina, il Martino, voi avete un debito nei confronti del Martina e della città e per la maglia che avete, che indossate, Perché le maglie non sono vostre, sono della S Martina, quindi, da lunedì, se mi dimostrate, io sono con voi, perché se vogliamo, me ne vado pure io di qua, Però siccome io mi sono messo in testa, ho avuto un invito da Lippolis a rilevare le quote del Martina Calcio, Io non rilevo niente, perché le quote sono di Lippolis e di Cervellino, posso rilevare le quote del Martina Calcio, se ho una situazione contabile a posto, Ho detto a Lippolis, mi dai carte e mi hanno detto un pacco di carte, l'ultima è arrivata e me l'hanno portata ora, che non avevo visto, Richiesta da parte dell'Avvocato Gianluca Tracuzzi di 60.000 euro, dopo non riesce perché è già fritto, perché chissà che è, devo vedere cos'è piccolo, Dopo mi ha portato il sintomo a me, ieri mi sono interessato, c'era una cosa da pagare di F24 ed è stato pagato, non ho messo i soldi. Oliveri, ma per i colleghi, se dovessimo fare un numero, l'esposizione attuale del Martina, qual è? Senti, fino ad adesso io ti posso dire il numero dei giocatori, il dato dei giocatori, ho fatto un giro dalle banche, per assicurarmi se c'erano dei soldi o c'erano dei debiti, sul conto dedicato ci sono 42 euro, Dopodiché ho un mattino a calcio, perché io sono in condizioni di prendere l'Ippolis, mi chiedono, a me mi vedono con l'Ippolis, come se io dormo con l'Ippolis e sono d'accordo con l'Ippolis, io non sono d'accordo né con l'Ippolis, né per cervellire, né con tutti gli altri, io sono un cavallo che corro da solo. Che in questo momento, sto dicendo, salviamo il Martina sul campo. E io mi sto interessando anche da ieri, due giugni, tre giugni, di salvare il Martina per non fargli arrivare sanzioni, perché il pagamento di ieri di un F24 che è stato pagato, è stato pagato con un assegno di uno sponsor di 2.000 euro, che ce l'avviva l'avvocato Muschio, e me l'ha dato, ed è stato pagato con un altro assegno di 1.200, che è l'Ippolis non era a conoscenza, che è stato ritirato dalla banca Carime. Io mi sono prodigato di andare dal direttore del credito cooperativo di Taranto, che aveva la delega di 3.000 euro, ho detto, sistema questa cosa, sono andato a Taranto a pagarlo la banca, perché ieri era San Martino, il direttore si è messo a disposizione, tutti si sono messi a disposizione, l'avvocato Muschio, l'Ippolis e tutto, per pagare quell'F24 di 3.000 euro, perché se no l'anno prossimo arriva una sanzione di 50.000 euro, che faceva parte di una rateizzazione di IVA vecchia, quindi è stato pagato l'IVA vecchia, con due sponsorizzazioni fatte dai martinesi al 2015, il campionato 2015-2016. Ho chiesto all'Ippolis, scusate, dobbiamo scrivere, alla fine ci abbiamo usato, dobbiamo scrivere, un'ora è parola, quindi che devo, che volete, faccio il minumaccio, mi sto dicendo, vogliamo parlare della bolletta della luce, no no no, volete parlare delle bollette della luce, una sanzione di fumazzo pulito di luce, riferimento febbraio 2015-2014-2012, adesso, sto verificando la situazione delle carri. Quindi ci sono 42 euro sul conto, rispetto all'anno scorso, comunque l'anno scorso stavamo vicino a Marchina, c'è una differenza? Rispetto al milione 2, moltissimo, quindi i danni sono stati fatti, ora, che ci hanno fatto? A Marchina Lippolis? A Marchina ci ha fatto la scuotra? A Marchina Olivier Lambassetti che ha fatto la scuotra? A Marchina Cudi Cristiani che ha fatto la scuotra? L'anno scorso c'è stata una gestione, ed è stata pagata. Ora, vi sto dicendo, che in questo momento non sono in grado, sto verificando tutte le carte, ho incaricato dei commercialisti, di tutto, perché a Martina c'è un bilancio da approvare che non è stato approvato, mi dicono che ci sono di 180-190 mila euro di perdite, mi dicono questo, sono tutte cose che io ancora non l'ho viste, dopodiché, che cosa dico io a tutti? di aiutare il Martina sul campo, se ci sono persone, perché ho chiesto se c'è un contratto di sponsorizzazione, Lippolis non è stato in grado di darmi i contratti di sponsorizzazione, ho chiesto, mi dai delle cose, ho visto sul conto corrente del Martina che Lippolis ha preso dei soldi, si è fatto un costo di 30 mila euro, li ho trovati sul conto corrente, ho chiesto a Lippolis, mi dai conto per favore, di questi soldi, che cosa hai fatto? Mi ha detto Lippolis, ho pagato, mi dai dei conti di questa storia, anche tu, perché in questo momento bisogna fare chiarezza di tutto, e pensare a cercare di salvare il Martina sul campo, io sono convinto che tutti insieme, giocatori, imprenditori, la città, nel Martina l'altra scorsa settimana è incassato 1200 euro di incasso, perché sono state regalate 500 tessere omaggio del Martina Franco, il Presidente Lippolis, la partita di domenica, lo dico già in anteprima, le tessere omaggio sono state scaricate dalla pistola della Go2, le tessere omaggio non esistono più, il Presidente Lippolis ha tolto lo sponsor dalle maglie perché c'è una fattura fatta dalla 2S che io rispetto e bisogna portare rispetto perché ha fatto la fiduzione al momento dell'iscrizione di Martina, però quella fattura di sponsorizzazione è stata incassata l'assegno precedentemente il momento che Lippolis è diventata amministratore, quindi questo fatto, avete trovato Lippolis perché ci anche Vincenzo Liviero non avrebbe indestato per le quote senza vedere niente, che non l'ho capito ancora, perché io faccio le domande, io sto lavorando su Lippolis, Massimiliano ascoltami, che ti sto dicendo, io sto lavorando su Lippolis per dirmi tutte le cose di tutto, sto dicendo a Lippolis anche, Massimiliano, sto arrivando, non gliel'ho fatto ancora la domanda, gliel'ho fatta e mi ha risposto, io per la mia quota non ho nessun problema, Massimiliano i soldi ce li hai, Massimiliano Lippolis mi ha risposto in dialetto e stava anche la moglie, ha detto lì, gli soldi per la parte mia, io li tengo, e li metto subito, io ero convinto che Lippolis avesse il 51%, la dottoressa Pizzicallo della banca Carice, che ha fatto una visura sulla S Martina, ha detto Vincenzo, le quote sono 50,50, quindi questa è la quota, di tutte le altre cose, io ora non sono nessuno, quindi quando Cervellera, ieri ho saputo che ha detto, ho letto sopra una cosa, che Olivieri se vuole il Martino, lo mette 800-900 mila euro, ti mando a dire che Olivieri non vuole nessun Martino a calcio, perché 800-900 mila euro, se avete dei debiti, pagateli, Olivieri vuole solo che Martina si salva sul campo, e che dopo Olivieri sta vedendo la possibilità di vedere le carte di salvarci, come? Ho fatto già una recessione ieri, di un contratto, di un altro biennale, del secondo allenatore, ho pronto il biennale, la recessione, solamente che non l'ho fatta ancora, perché non ho avuto tempo, di farla, perché non c'è una persona che posso parlare a Martina, sulla S Martina, di dire, mi fai la recessione, mi prepari il contratto di recessione, perché dopo devi andare davanti al lavoro, davanti al sindacato, a firmare, ieri sera ho fatto una recessione, vi posso dire dopo, quanto costa questa recessione, per dire risparmio due anni di contratto, anche per il secondo allenatore, perché gli ho detto al secondo allenatore, se no tu, incominciati ad allenare tu, gli ho detto, ti incominci a pagare la casa, se no incominciati ad allenare tu, non pensare di allenare i ragazzi, perché anche tu vieni dalla scuola di gocciati, il ragazzo ha detto, ci dobbiamo mettere d'accordo, sì, e ho la recessione in mano, questo è un risparmio biennale, non lo so quando è, però so che prendevo, 1.800-1.900 euro, perché glielo ho chiesto a lui, quando prendevi, 1.800, più la casa da pagare, fatevi conto voi per due anni, che risparmio che ho fatto con una persona, al Martina Calcio. Adesso chiedetelo a questo, dico, tu hai parlato sempre, di salvare Martina sul campo, sì, questo però al momento attuale, potrebbe non bastare, ti sto dicendo a te, che il Martina Calcio, prima di tutto, non si deve salvare l'ultima giornata, il Martina Calcio, se si salverà, noi lo vedremo già, alla fine del girone, di ritorno, perché se non si salverà, di andato, scusami, se non si salverà, del Martina Calcio, abbiamo 17-18 punti, al girone andata, noi, il Martina Calcio, non si salverà, sul campo, quindi, lo vedremo prima, e se non è, ce ne andremo tutti prima, io per primo, posso andarmene anche ora, mi state seguendo, ma allenatore, non ho nessun problema, ad andarcene anche stasera, se dopo voi avete altre soluzioni, e tutte le soluzioni sono ben accettate, ma smettiamola di fare teatri intorno alla S Martina, di dire uno contro l'altro, state calmi, tranquilli, e vediamo di salvare il Martina, perché arriverà il momento, che sta arrivando, che faremo chiarezza, su questa storia, cerchiamo di salvare il Martina, sul campo, tutti, dico io, l'Avvocato Muschi, Cervellira, le forze imprenditoriali, aiutiamo il Martina, perché stamattina, io, ho dato 500 euro, alla S Martina, per pagare, per pagare il SER, che è il servizio di ingegno allo stadio, perché se non pagavi questi 500 euro, domenica non puoi giocare a porte aperte, io domenica, ho chiamato Matera, ho messo i biglietti degli ospiti, a 14 euro, perché domenica, servono anche le 50 euro, io oggi, i ragazzi, ero in cimitero, nello spogliatoio, me ne sono andato, e i ragazzi sorridevano, gli ho detto, avete bisogno che andiamo in ritiro, mi hanno risposto i ragazzi, Vincenzo, con quei soldi, lunedì, cerchiamo di pagare qualcosa, che state a pagare, non all'oro, perché anche i ragazzi sono mortificati, i ragazzi, c'è gente, a stare a 5 punti in classifica, è una cosa bruttissima, quindi io ho avuto, ho detto ai ragazzi, ragazzi, la situazione è questa, vogliamo che ce ne andiamo tutti, insieme, ora, anch'io, insieme a voi, sono a disposizione, i ragazzi, si stanno allenando, speriamo che noi perdiamo punti, perché peggio di così, neanche Vincenzo Livi la può fare, mi state seguendo? Sto pensando, sto ragionando un attimo, fa continuamente riferimento al fatto che, c'è una questione comunque economica, abbastanza pericolosa, a Lippolis non ha fatto domande, perché io faccio un regolamento, c'è un Presidente, ci sono delle quote, c'è una situazione economica deficitare, io vado da... Ti sto dicendo, siccome ora si dice che quello e quell'altro, lo stanno dicendo, io a Lippolis mi dice che non è così, però io ti posso dire, che ho visto sul conto corrente, una sponsorizzazione 2015-2016, pagato un decreto ingiuntivo del ritiro di due anni fa, allora io sto dicendo, non posso parlare, non mi posso esprimere, né su Lippolis, né su quello, né su quell'altro, perché all'oncorotondo dicono, nessun vuole un uomo, e fa la guerra un uomo, però le sto dicendo, non giudico nessuno, perché non sono in condizione di giudicare nessuno, io non sono nessuno, sono l'elemento che sta dicendo, cerchiamo di salvare il Martina a calcio, sul terreno di gioco, e lo vedremo subito, perché se non va bene, che arriviamo al giro d'andata, amici miei, non c'è bisogno che io continuo a pagare l'allenatore, e a prendermi delle cose che non, giusto o no? Allora, se dopo dico e concludo, se c'è qualche altra persona, che è capace di fare, di portare avanti il Martina a calcio, vi posso dire che le quote di Lippolis, sono a completa disposizione, mi è stato detto caccia Lippolis, mi è stato chiesto, ma tu una quota del Martina la prendi, ho risposto di sì, devo vedere chi dobbiamo, chi sono i soci futuri del Martina a calcio, mi hanno chiesto, ho chiesto ma chi potresti destare, perché mi hanno detto a Cervellera, allora vorrà dire che Cervellera è un uomo vostro, se è un uomo vostro pagate il 50% degli impegni che avete preso, a Martina a calcio, perché Cervellera deve sapere, che quando Cervellera è tutti i soci in generale, che quando sei proprietario di un'azienda, ci metti del tuo, non che mi dichiari che mi hai portato 59 mila euro di sponsorizzazione, perché ora verificherò, sto chiedendo, faccio l'appello a tutti gli imprenditori, a tutta la città, se avete dato dei soldi al Martina a calcio, sono stati tolti, Lippolis ha tolto i tabelloni, ha tolto lo sponso dalle maglie, si paga domenica tutto il biglietto allo stadio per assistere, ha tolto le tessere omaggio, dalla settimana prossima, se qualcuno ha dato dei soldi al Martina a calcio, è giusto che ha dato dei soldi e il suo diritto venga rispettato, venite in società, chiamate a me, perché siccome stiamo verificando le carte, dobbiamo vedere questi soldi, dove sono andati a finire, perché non si capisce niente, non è che abbiano tolto i tabelloni, perché non ci sono contratti di sponsorizzazione, questo è ciò che ho visto io. Posso fare una domanda? Di. Secondo un'idea che si è fatto lei, una prima impressione, secondo lei, Lippolis, è stato messo in mezzo, è stato uno sprovenuto, o tutte le cose? Tutte le cose, non lo so, non dico che è stato preso o non preso, non sta capendo, ti sto dicendo che ancora non li capo, non l'ho capito, mi stai seguendo, però ora lo capiremo, perché ti sto dicendo, lo capiremo, e vedremo, Lippolis, siccome ti sto dicendo, ho messo 500 euro, e queste 500 euro, io le voglio, queste 500 euro, le giudette, e poi le stupate, queste 500 euro, mi devono essere restituite, perché ti sto dicendo a te, io non posso fare beneficenza, di soldi miei lavorati, ai soci, del Martina Calcio, io ho un impegno, con il Martina Calcio, che ho preso col mister, e lo pago io, se è lunedì, se è lunedì, oggi mi è venuto un altro, che c'era da pagare la casa un giocatore, ho detto al giocatore, alla persona si chiamava Olivieri Eligio, ho detto chi sei, fatti vedere in faccia, sono un uomo ma giugua, è venuto il ragazzo, ho detto sempre, se tu lo vuoi fare, ho chiamato il ragazzo, ho detto oggi, prenditi le robe di là, che dopo vediamo dove vai a dormire, se dopo ho detto, tu mi fai il favore, che lo mantieni fino a lunedì, perché io ho promesso ai ragazzi, che lunedì vi confesso, uno per uno, e mi dite, se avete qualche problema, che ve lo posso risolvere, che ve lo posso risolvere, intanto vi ho detto, che non voglio più sentire parlare, di soldi, che avanzate, da altra gente, come sto dicendo, alla gente, venite, se avete dato dei soldi, venite, venite, e dite, se avanzate, un credito, dal Martina Calcio, perché in questo momento, c'è da fare, una situazione, per vedere, se Martina Calcio, si può, aiutare a salvarsi, sia sul campo, che all'interno della società, già fatto dei sondaggi, tra gli imprenditori locali, no, io non ho fatto nessun sondaggio, a me mi dicono, mi dicono, mi dicono, che ci sarebbero, persone, disposte ad entrare in società, io non ho nessun problema, a chi vuole entrare in società, a chi vuole aiutare Martina, mi chiama, il numero mio, lo avete tutti, se no, lo fate dare da chi ce l'ha, chiamatemi, e io sono a disposizione, per il bene del Martina Calcio, chiamatemi, se avanzate dei sondaggi, se dovreste chiamarla Donato Muschio, a chiederle una mano, entrare in società nuovamente con lei, potrebbe rispondere a lui, senti, Donato Muschio, mi ha chiamato l'altra sera, quando è stato esonerato in concetti, e gridava, ho detto a Donato Muschio, Donato, non gridare, perché calmati, se no ti viene l'infarto, Donato Muschio è uno, che è stato un tifoso, è un tifoso del Martina Calcio, però mi devi chiamare, quando mi chiami, è il mio avvocato, gli voglio un bene da morire, lui lo sa, lo rispetto, da amico e in tutto, però Donato Muschio, mi deve chiamare, e mi deve spiegare, come mai hai un interesse, che il Martina, che hai incocciati, tu non devi cacciare l'Ippolis, io non caccio l'Ippolis, non ho accordi con l'Ippolis, quando voglio, chiamo l'Ippolis, e gli dico, andiamo dal notaio, e firma le quote, e lascia le quote, e lascia tutto, ti faccio restituire, se hai dato delle garanzie, ti faccio fare una carta, un impegno, che tu non ti succede niente, perché l'Ippolis, non si sa, nemmeno cosa ha firmato, quindi, voglio dire, la situazione, io, parlo con Donato Muschio, che mi ha chiamato, dicendomi, non si sa niente cosa ha firmato, ecco, poi ce ne mangio, ma, e c'ha avuto da me, che si ha firmato, cioè io, che ho detto l'Ippolis, ma tu come hai fatto a firmare, come hai fatto a firmare, perché le cose, le dicono, a uno la volta, come te le spiegavo, oggi mi è arrivata una telefonata, di una persona, imprenditore di Martina, che ha Martina nel sangue, che ha Martina nel sangue, scusami, guardami in faccia, ha Martina nel sangue, ottiene due sangue, tiene fatto una tatuaggia, la IAM, quindi che hai, ha chiesto una risoluzione, di un contratto di sponsorizzazione, con una società di RU, facendo capo, a Fogoli, io non ne so, niente, state capendo, infatti, come stiamo, quindi, facciamo chiarezza, cerchiamo di fare chiarezza, e salvemo Martina, dopo tutte le altre cose, caccia a Limpolis, vi sto dicendo, che io con Limpolis, non ho nessun accordo, non mi sono mai coricato insieme, o questa persona, che non sta buttando le spalle, non se ne sta scappando, questa persona, Limpolis, non sta scappando, perché ancora, è disposto a firmare, mi state seguendo, dopo, e non è facile, trovare una persona, che non scappa, eh?